Buongiorno a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di tutto applico un fondotinta molto luminoso, dalla consistenza molto leggera. Questa sua particolarità mi permette di stratificarlo in modo da ottenere una coprenza modulabile. Lo sfendo con un pennello a setole morbide. Dopo aver fatto asciugare bene, fisso la base con una cipra in polvere libera, anch'essa molto leggera. A mio parere non esiste uno strobing senza un leggero contouring. Di conseguenza scolpisco sotto lo zigomo con una terra media e correggo anche un po' il mio naso restringendolo. Ricordate, gli scuri restringono ed i chiari esaltano. Applico quindi anche un pizzico di blush sempre seguendo lo zigomo, poco al di sopra dell'ombra ricreata. Ed adesso lo strobing. Lo eseguo con uno stick illuminante multiriflettente. Quindi lo applico sugli zigomi, sulla parte centrale del naso e sull'arco di cupido. Se volete un effetto ancora più tridimensionale, specialmente se è sera, potete applicare un ombretto champagne sugli stessi punti dove avete applicato precedentemente lo stick. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di spoliciare, condividere, commentare. Un bacio e alla prossima! Grazie a tutti!